capitolo 30 mi intrufolo nella tana del dio del fulmine 3000 fare uno sprint verso il monte olimpo mi sembrò figo ed eroico finché non arrivai a metà strada e mi resi conto che dovevo correre ancora per 400 metri reggendo un calice pesante come una palla da bowling quando raggiunsi l'altra estremità del ponte sudavo e boccheggiavo immaginai gheri da qualche parte che rideva di me ricordando come da ragazzo per raggiungere l'olimpo correva a piedi nudi in salita per quasi 10 chilometri e si divertiva pure per due volte mi fermai a riprendere fiato chino sul ciglio della strada mentre un gruppo di abitanti dell'olimpo mi passava accanto non sapevo chi erano divinità minori spiriti della natura ma nessuno sembra notarmi mi superarono nelle loro scintillanti vesti dorate ridacchiando e chiacchierando in greco antico con l'aria di chi vive dentro un filtro di bellezza sovrannaturale permanente il berretto di annabeth stava funzionando a dovere ero invisibile per gli abitanti del posto oppure apparivo troppo insignificante per essere preso in considerazione era una cosa positiva perché più indossavo il cappellino più il prurito peggiorava mi sembrava che la pelle si stesse cuocendo e trasformando in cotenna di maiale croccante mi domandai come facesse annabeth a sopportarlo e anche se sull'olimpo ci fossero farmacie che vendevano creme al cortisone perlomeno non c'era traffico un paio di cocchi era in coda allo sportello takeaway del caffè sagittarius una specie di rinoceronte steampunk costruito da efesto avanzava pesantemente lungo la strada e lavava l'acciottolato con potenti raffiche di vapore che spruzzava dal muso nel gazebo del parco un cartello recitava poesia piccante a microfoni aperti con erato solo stasera ma al momento i giardini erano deserti tranne che per qualche piccione esatto persino sul monte olimpo ci sono i piccioni segui le indicazioni di grover per l'ingresso laterale del palazzo di zeus svoltai a sinistra la grande quercia bianca poi costeggiai la iuola di gigli fino a trovare due pioppi dopodiché girai a destra e cercai la parete di gelsomino quando il tuo migliore amico è un satiro impari tante cose sugli alberi e sulle piante è così che loro vedono il mondo ed è così che danno le indicazioni il calice mi aiutò tirandomi con sempre più insistenza via via che ci avvicinavamo a ganimede o almeno sperai che mi stesse portando da lui e non alla mensa del liceo di vino più vicino per farmi rabboccare le bevande di tutti gli studenti fini in un vicolo alla base di una rupe sulla cima si ergevano le fondamenta di un enorme palazzo bianco scese us supposi come voleva si dimostrare la parete davanti a me era ricoperta da gelsomini in fiore eccezion fatta per una porticina intarsiata con dei raffinati motivi in bronzo perfino i vicoli sono di gran classe sul monte olimpo feci la bussatina speciale tattararatta tattà la porta si aprì con uno scricchiolio si affacciò una donna con un'acconciatura stile vortice di tornado aveva occhi grigi e tempestosi un viso senza età e il profumo della pioggia in arrivo non avrebbe potuto essere più chiaro che era una ninfa delle nuvole se avesse avuto un badge con su scritto ciao sono una ninfa delle nuvole nomi tirai a indovinare hai portato le ciambelle mi chiese no sai di ciambelle di mochi perché non fa niente in realtà sono un amico di marone sbuffo no marone non ha amici vero ma sono amico di grover underwood ha detto entra mi afferrò per un braccio e mi tirò in cucina non so cosa mi aspettassi da una cucina divina se devo essere sincero non mi ero neanche mai domandato se gli dèi le avessero le cucine voglio dire potevano schioccare le dita e creare tutto ciò che volevano perché prendersi la briga di avere qualcuno che cucina per te in quel momento mentre guardavo le ninfe che sfrecciavano dal forno ai fornelli che prendevano dall'aria la sostanza delle nuvole e la mescolavano nelle zuppe e nelle torte come fili di zucchero filato mi resi conto che gli dèi volevano che la servitù si desse un grande affare cucinando per loro allo stesso modo in cui apprezzavano che i mortali bruciassero le offerte sugli altari era tutta una questione di farsi notare accudire servire e riverire gli dèi si nutrivano di luci della ribalta più di quanto si nutrissero di nettare e ambrosia ovviamente insistevano che le cose fossero fatte nel modo più difficile una ventina di nymph erano al lavoro tutte con grembiole bianco e retina nera intorno ai capelli vaporosi per gambe avevano ciuffi di nuvole forse perché così potevano muoversi più veloci sugli abiti nebulosi c'erano macchie di svariate zuppe brodi e glasse che assomigliavano a variopinti tramonti la cucina da sola era più grande della palestra del mio liceo e le driadi continuavano a entrare e uscire dalla doppia porta in bronzo trasportando vassoi di cibo nella sala da pranzo accanto quando le porte si aprirono riconobbi alcune voci il baritono roboante di zeus la risata di era oh fantastico la mia dea preferita come avevo temuto gli chef stavano preparando tutti gli orrori tipici di un brunch uova alla benedict con salsa olandese arancione fosforescente bistecca con uova soufflé e sì c'erano anche i croque monsieur oltre ai french toast hamburger con il bacon e pizza all'ananas certo perché no che regni il caos del brunch naomi mi studiò con la stessa espressione diffidente con cui io guardavo il cibo allora come mai grover non appena le mostra il calice degli dei la sua voce si affievoli capisco non dovresti avercelo tu già confermai lo so si grattò sotto la retina quindi sei un dio mi passò per la testa la battuta di un vecchio film quando qualcuno ti chiede se sei un dio tu gli devi dire sì di sì no ok la ninfa esitò questo spiegherebbe come mai ganimede è di là che su da fuoco greco non posso svelarti nulla replicai ma se tu potessi fargli cenno di venire qui o no naomi incrociò le braccia il modo in cui guardò il cappellino degli yankees di annabeth mi fece pensare che nella sua cucina i berretti dell'invisibilità erano offensivi eppure inefficaci farò finta di non vederti qui nessuno ti disturberà ma se vuoi attirare l'attenzione di ganimede dovrai farlo da solo è proprio qui dietro indicò la porta a due ante non puoi sbagliarti è quello che suda fuoco greco ho capito non posso prendere in prestito una divisa da cameriere e magari un paio di baffi finti naomi grugnì amico di marone esilarante e se ne andò via impettita per controllare i suoi soufflé dedussi che fosse un no alla divisa da cameriere visto che il berretto dell'invisibilità di annabeth riusciva solo a farmi sembrare fuori luogo e procurarmi un'eruzione cutanea mi serviva un altro piano mi avvicinai alla doppia porta aspettai che passasse una cameriera poi misi un piede tra le due ante tenendole aperte quel tanto che bastava per sbirciarvi attraverso non avevo mai visto il palazzo privato di zeus le poche volte che ero stato sull'olimpo ero sempre andato dritto dagli ascensori alla sala del consiglio degli dei che è quello che devi fare quando consegni armi per il giorno del giudizio o tenti di evitare che i titani distruggano il mondo la sala da pranzo di zeus era un misto tra un salone di banchetti dell'antica roma e una festa improvvisata dai ragazzini di beverly hills non appena i genitori se ne vanno nello spazio per la conversazione ricavato al centro divani purpure e ricamati d'oro circondavano un tavolo pieno di vassoi di frutta le posate e le stoviglie dorate scintillavano a tal punto che pensai mi si sarebbero sciolti gli occhi lungo il perimetro dell'atrio c'erano colonne di alabastro con fulmini d'oro incisi sopra caso mai uno si fosse dimenticato chi era il proprietario del palazzo rimasi sorpreso che zeus non vi avesse inciso il suo monogramma ma forse se il suo monogramma era solo una zeta in pratica era uguale a un fulmine giusto da far scoppiare la testa la vista era impressionante come si conveniva a una simile dimora ampie terrazze scoperte si affacciavano su altre dimore dell'olimpo dove erano costrette a vivere quelle fesse delle divinità minori ma quello che davvero mi colpì furono i giochi a gettone allineati lungo le pareti esterne lampeggiavano e scintillavano tutti i giochi a tema zeus possibili e immaginabili il flipper re dell'olimpo le slot machine possente zeus e perfino dio del fulmine 3000 con cui mi ero cimentato una volta a cony island non mi sorprese che zeus collezionasse i suoi cimeli personali era perfettamente in linea con il personaggio ma il fatto che li esponesse nella sala da pranzo rivelava un narcisismo di livello divino niente male della serie perché stare a guardare questi strepitosi panorami quando puoi scegliere il mio avatar in modalità multiplayer e renderti conto di quanto i tuoi poteri facciano schifo rispetto ai miei mi domandai se si procurasse quei giochi dallo stesso grossista di ebe poi costrinsi il mio cervello affetto da iperattività e deficit dell'attenzione a smetterla di farsi ossessionare dalle luci lampeggianti e a concentrarsi piuttosto sugli ospiti presenti al brunch un sacco di vecchi amici e amici nemici poltrivano sui divani a capotavola sedeva il grande dio in persona lo z che si rilassava con indosso una toga di velour color porpora e sandali d'oro ovviamente se sei un dio e puoi assumere l'aspetto che vuoi perché mai non scegliere un look come quello alla sua sinistra c'era la mia amica era la dea che rende infelice persi nel suo lungo abito bianco senza maniche l'elegante acconciatura a treccia aveva un'aria regale come se volesse sottolineare quanto era volgare suo marito alla destra di zeus gli spalle a me c'era una donna che supposi fosse rea la regina dei titani nota anche come nonna dea mi aspettavo che sembrasse più vecchia degli altri perché ormai doveva andare verso i 6.000 anni ma ovviamente gli immortali non dimostrano la loro età i capelli biondo scuro le ricadevano lungo la schiena in una cascata di boccoli indossava un abito simile a un tano tinto a nodi e portava bracciali d'argento su entrambe le braccia accoccolato ai suoi piedi c'era un leone addormentato un altro super predatore presente a quel tavolo le celebrità che partecipavano al branch erano athena ermes e demetra perché ovviamente la dea delle messi non poteva mancare a un pasto mattutino c'era un paio di altri ospiti che non riconobbi vuoi perché avevano cambiato aspetto o perché non li avevo mai incontrati e in piedi dietro a zeus che cercava di capire cosa fare con le mani libere e senza calice c'era ganimede sudava letteralmente fuoco greco di tanto in tanto una goccia scintillante di liquido incendiario scoppiava ed esalava fumo sulla sua nuca fino a quel momento nessuno nella sala sembrava essersene accorto o forse ganimede faceva sempre così quando serviva al tavolo del boss zeus sproloquiava sulle prelibatezze che aveva ordinato per lo speciale branch in onore della madre a quanto pareva era da tantissimo tempo che la dea non si recava sull'olimpo e a nessuno era permesso di cominciare a mangiare o bere prima che zeus avesse concluso il discorso su quanto lei fosse strepitosa tutte le coppe erano vuote bene adesso non mi restava che mettere il calice nelle mani di ganimede senza farmi notare sembrava fattibile eppure fissai il coppiere sperando che guardasse nella mia direzione alla fine mentre zeus stava decantando le virtù delle uova di fenice alla benedict hanno un bel sapore piccante ganimede lanciò un'occhiata alla porta dopo un attimo di confusione e annebbiamento vide che avevo il calice la sua espressione passò dalla sorpresa al sollievo e al terrore implorante in meno tempo di quello che gli ci sarebbe voluto avversare un drink con gli occhi diceva oh grazie agli dei il feci senno di venire in cucina si spostò pian piano di lato ma zeus allungò subito una mano all'indietro e gli afferrò un polso rimani qui ganimede voglio che ascolti quello che sto per dire poi potrai versarci da bere faremo un bel brindisi nessuno notò ciò che era ovvio il coppiere non aveva la coppa suppongo che essendo un servitore fosse ancora più invisibile di me con il berretto preso in prestito ganimede guardò di nuovo nella mia direzione aiuto ho pensato di onorare la nostra cara madre rea con una storia speciale su di lei disse zeus ai suoi ospiti oh bambino mio non devi commentò rea gli altri dei sorrisero mestamente come se fossero d'accordo sul fatto che zeus in effetti non doveva ma lui cominciò a raccontare allora una volta quando ero un bambino e voi altri facevate capriole nella pancia di crono in quel momento mi divennero chiare due cose orrende primo avrei dovuto ascoltare quella storia secondo se ganimede non poteva venire a prendere il calice avrei dovuto portare io il calice a ganimede capitolo 31 affronto una pericolosa predatrice che forse sarà la mia futura suocera adesso canterò le lodi dei carrelli dei dolci non solo possono trasportare gustosi prodotti da forno in prossimità del tuo viso ma possono anche essere coperti da tovaglie che nascondono un ripiano inferiore perfetto dove accovacciarsi se sei un semidio che deve intrufolarsi in un branch sì lo so che è banale ho preso l'idea da alcuni vecchi programmi televisivi ma è stato fatto per aver guardato il mio amore mi ha chiesto